Si chiama perizia antropometrica. Vengono prese le misure corporee dei soggetti filmati da una telecamera e se ne verifica la compatibilità con le immagini raccolte dai sistemi di sorveglianza. Nei prossimi giorni Iris di Parma faranno visita a Jessica Notaro, la riminese sfregiata con l'acido nel parcheggio di fronte a casa sua, e a Edson Tavares, l'unico indiziato della vicenda e attualmente è incarcerato a Forlì. Sin dal primo momento la ragazza non ha infatti mai avuto dubbi a gettarmi l'acido addosso è stato Eddie, ha detto agli investigatori, seppure l'ex compagno continua a professarsi innocente. E le cose per lui si metterebbero male se dagli accertamenti richiesti dal pubblico ministero dovesse risultare un alto grado di compatibilità tra la sua fisionomia e quella dell'uomo ripreso nel video. Intanto prosegue in ospedale il calvario di Jessica, dopo l'intervento al volto per la quale si è in attesa di valutarne gli effetti, la ventottenne riminese dovrà presto sottoporsi a quello sull'occhio sinistro per il quale potrebbe rendersi necessario un trapianto di cornea. Senza un'operazione chirurgica, spiega chi lei vicino in queste ore, non potrà tornare a vedere. Ma la grinta della giovane non potrà mai essere scalfita da alcun liquido corrosivo. Finalmente torna a splendere il sole, queste le parole che ha consegnato a tutti noi. Grazie. 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 Grazie.